oggi ragazzi diluvia e finalmente posso portare la moto dal meccanico ok ma vi farò sapere poi quando andrò a riprenderla e ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo un nuovo video come avete visto dall'introduzione sono andato a ritirare finalmente la moto dal da sr racing che diciamo un'officina specializzata sulle sospensioni alle moto ma fanno anche tutto il resto ovvero tagliandi e tutto quello che riguarda diciamo la manutenzione della moto appunto ragazzi davvero molto molto competenti molto preparati io vi consiglio se avete qualche problema di rivolgervi a loro perché davvero vi spiegano tutto bene e comunque fanno anche un buon lavoro io sono andato la perché avevo appunto il problema alla mia 3 se un problema la mia 3 se quello dello sbacchettamento e adesso vi dico i lavori che sono stati fatti è stato cambiato il kit forcella andando a migliorare di gran lunga il kit che era di serie è stata rifatta all'interno appunto la forcella andando a mettere un kit Mupo che già dalle prime le sensazioni mi dà molta più stabilità molta più sicurezza è molto molto più solida e stagna la moto diciamo in più sono state fatte le bilanciature delle gomme delle ruote sia anteriore che posteriore e poi avevo messo dentro anche il tagliando dei 20 mila chilometri quindi mi hanno fatto anche tagliando e niente vi ricordo che la moto aveva un problema abbastanza evidente con lo spacchettamento magari vi lascerò il video qua in alto a destra in alto a destra se volete andare a vedere il problema che mi faceva e comunque la moto a mio avviso è migliorata davvero tanto a livello di guidabilità e di tutto il resto adesso andiamo a fare la prova nel 9 ok vedete lo fa molto molto meno con il bauletto carico prima lo sbacchettava proprio tanto adesso invece col bauletto molto meno e senza bauletto proprio non lo fa non lo fa proprio appena 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 con tutta la moto bauletto carico borse laterali e tutto mentre senza non lo fa più quindi devo dire che il lavoro è stato fatto egregiamente comunque ovviamente un po il bauletto incide su questo gioco perché va a stabilizzare quello che è aerodinamica diciamo della moto quindi fa un po effetto vela e quindi tende a stabilizzare quello che è la moto però rispetto al gioco che mi faceva prima adesso lo fa davvero molto molto meno vedete fa davvero molto ma molto di meno e senza bauletto non lo fa per questo ho pensato di passare a un'altra tipologia di bauletto che però vi farò vedere appena arriverà in un altro video comunque sia il lavoro è stato a mio avviso azzeccato e riuscito essendo che lo fa comunque molto meno molto carica comunque vi ringrazio anche per chi mi ha consigliato vari interventi da fare comunque 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 davvero oltre a questa cosa qua la moto davvero sembra proprio un'altra un'altra moto perché è molta più stabilità è molto molto più più incollata a terra quindi sembra molto più stabile all'anteriore comunque vabbè un po' di gioco appunto resta per la via del bauletto questo secondo me è un po' un peccato ed è un po' diciamo magari un difetto appunto della della tracer in sé quindi concludendo questo video vi ricordo di iscrivervi al canale di mettere un bel mi piace e ringraziando ancora i ragazzi di SR Racing di Caravaggio concludo questo video e alla prossima ciao ciao ciao